Chi chiacchiera è un terrorista che butta una bomba e distrugge tutto. Nel Duomo di Napoli Papa Francesco ha incontrato il clero, i religiosi e i diaconi permanenti della città partenopea e ha chiacchierato con loro lungamente lasciando il discorso preparato. Tra ricordi e aneddoti il pontefice ha detto che il diavolo ci tenta con gelosie, invidie, lotte interne, antipatie e simpatie, ma che se Cristo rimane al centro è possibile superare tutto. Condannando ogni forma di avidità e mondanità il successore di Pietro ha invitato tutti a coltivare sempre l'adorazione, l'amore alla Chiesa e lo zelo apostolico. La Chiesa non è un ONG, ha concluso, la Chiesa è la sposa di Cristo che ha il tesoro più grande, Gesù, e la sua missione, il suo motivo di esistere è proprio questo, evangelizzare. L'appuntamento al Duomo di Napoli si è concluso con la venerazione delle reliquie di San Gennaro, il cui sangue nelle mani del pontefice si è sciolto a metà. La visita di Papa Francesco a Napoli è poi proseguita nella Basilica del Gesù Nuovo, dove ha incontrato gli ammalati, carne viva di Cristo nella società. Per tutti ha avuto una carezza e un sorriso ringraziando volontari e medici per il servizio reso, senza arricchirsi materialmente.